La polizia di Trieste ha arrestato un 32enne triestino per spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono a venerdì 11 ottobre, ultima giornata di controlli straordinari dell'operazione Stazioni Sicure che si è svolta in quella data nelle stazioni ferroviarie di tutto il Friuli Venezia Giulia. A Trieste, grazie al concorso dell'unità cinofile della Guardia di Finanza, è stato intercettato un 32enne italiano residente a Trieste trovato in possesso di 30 grammi di cocaina, 14 grammi di crack e 8 grammi di oppiacei. Il giovane, sceso da un treno proveniente da Venezia Mestre, ha catturato l'attenzione degli agenti per il comportamento teso e volto ad evitare i controlli. Il ragazzo non è potuto però sfuggire al fiuto di Gabi, uno dei cani delle unità cinofile della Guardia di Finanza adibito ai controlli antidroga. Sottoposto a perquisizione a seguito degli opportuni test, è emerso che trasportava i diversi quantitativi di sostanza stupefacente. Le forze dell'ordine hanno poi eseguito una perquisizione domiciliare dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di oppiacei, marijuana, semi di papavero e un bilanciamento elettronico per la pesatura delle diverse sostanze. Alla luce del quantitativo e della varietà qualitativa delle sostanze stupefacenti rivenute, del frazionamento e dal successivo rinvenimento di strumenti idonei alla pesatura e da specifici precedenti, dalla cortezza nell'occultare le sostanze e dal tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane triestino è stato arrestato in quanto colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'uomo è stato infine posto agli arresti domiciliari con il divieto di incontro e comunicazione in ogni forma con persone diverse da quelle conviventi e la proibizione di allontanarsi senza autorizzazione dall'autorità giudiziaria.